Ciao, benvenuto. Oggi parleremo della procura nella vendita di un immobile. La procura è un documento utilissimo che può essere utilizzato nell'acquisto o nella vendita di un immobile. Visto che nel nostro blog ci occupiamo esclusivamente della materia immobiliare, parleremo della procura con esclusivo riferimento alla compravendita in questo ambito. Diamo una definizione di procura. È un atto con il quale si incarica un soggetto ad agire per proprio conto nell'acquisto o nella vendita di un immobile. Quando parliamo di procura, individuiamo due soggetti, il rappresentato o mandante e il rappresentante o procuratore. Per una singola compravendita avremo bisogno di una procura speciale, ossia di un tipo di procura destinata ad un singolo affare. Questo atto esaurisce la sua funzione al momento del suo utilizzo ed il nottaio la ritirerà per evitarne un eventuale riutilizzo. Nel caso in cui il rappresentato abbia bisogno di nominare un procuratore per due atti distinti, ad esempio preliminare il ruggito, dovrà produrre due distinte procure. Rispondiamo ad una prima domanda. Perché si usa la procura? La procura è uno strumento utilissimo quando una persona non può essere presente all'atto perché è ammalata, distante dal luogo di stipula o per qualsiasi altro impedimento. È frequente il caso in cui il rappresentante si trovi all'estero ed in questo caso dovrà fare richiesta alla procura al consulato più vicino. Vediamo ora come si fa la procura. La procura nella vendita degli immobili è un atto pubblico e verrà redatta da un nottaio. È importante che la procura sia dettagliata, perciò con l'ausilio del nottaio dovranno essere inserite tutte le disposizioni che il rappresentato trasferisce al procuratore. Questa, ricordati, è una fase importante perché il procuratore, nel caso sia costretto a negoziare sul prezzo o altri aspetti contrattuali, ha un chiaro limite nella chiusura della trattativa. È importante altresì per il ritiro di eventuali somme. In genere la procura viene data esclusivamente per sancire accordi già presi e la presenza del procuratore si rende necessaria solo per firmare contratti già visionati ed accettati dalle parti. Adesso vediamo alcune curiosità e caratteristiche della procura speciale. Allora, le abbiamo numerate. Numero 1. Procura da parte di coniugi. Se i coniugi in comunione di beni intendono conferire procura ad un terzo soggetto, devono firmare entrambi. Numero 2. La procura può essere irrevocabile. Questo, devo dire, è un argomento veramente complesso ed i notai e gli avvocati affermano che una procura difficilmente è da considerarsi irrevocabile. Senza adentrarci tanto in questioni tecnico-legali, consideriamo una procura irrevocabile molto debole in quanto il rappresentato potrebbe renderla revocabile. La procura potrebbe, usiamo il condizionale, considerarsi irrevocabile se il procuratore ha interessi economici nel contratto, in questo caso la revoca potrebbe essere non valida, oppure se è stata conferita da più persone, in questo caso la revoca deve avere il consenso di tutti i rappresentati. Nel momento in cui si revoca è necessario informare tutte le parti coinvolte. Vediamo adesso il punto numero 3. Obbliga e dispensa nel dar rendiconto. Con l'obbligo, il procuratore è tenuto a fornire tutti i dati della compravendita, con particolare attenzione a quelli economici. Punto numero 4. I costi. I costi di una procura variano in base alla complessità del lato. In linea di massima potremmo dire che il costo varia dai 100 ai 200 euro. Punto numero 5. L'incasso. Il problema che molti si pongono è quello che riguarda l'incasso delle somme nel momento in cui viene dato a procura. Come detto in precedenza, deve essere un'accortezza del rappresentato quella di definire in procura il metodo di pagamento. Se si vuole evitare qualsiasi tipo di problema, basterà spingere verso un pagamento tramite bonifico o assegno circolare. In questa maniera il rappresentato non avrà problemi ad incassare le cifre a lui spettanti. C'è da dire che in alcuni casi potrà rendersi necessario conferire una procura a vendere e a incassare. In questa maniera sarà il procuratore a decidere come gestire l'incasso delle cifre avendone l'autorizzazione a farlo. Punto numero 6. Scadenza della procura. La procura tecnicamente non ha scadenza. Possiamo dire che esaurisce i suoi effetti nel momento del suo impiego a causa di una revoca o alla morte di uno o di entrambi gli attori. La scadenza è però possibile determinarla preventivamente e ciò potrà essere indicato nella procura stessa. Diciamo che questa era una semplice panoramica sulla procura speciale nella vendita degli immobili. L'argomento in effetti appare semplice ma può nascondere delle insidie che solo un legale o un nottaio possono governare con competenza e sensibilità. Con questo ti saluto, ti rinnovo l'invito a iscriverti sul nostro canale YouTube, condividere magari questo post su Facebook oppure mettere il classico like. Siamo presenti anche su Instagram e da poco anche sul podcast. Benissimo, ciao a presto!